Da sabato 19 novembre fino all'11 dicembre, tutti fine settimana, l'ex Real Collegio ospiterà il Desco, la tradizionale esposizione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il programma dell'edizione 2016 è stato presentato presso la sede della Camera di Commercio di Lucca, ente organizzatore della manifestazione, insieme a Comune, Provincia e Associazioni di Categoria. Durante 5 fine settimana, oltre alle consuete degustazioni di prodotti tipici, le sale dell'ex Real Collegio ospiteranno show cooking con alcuni degli chef più rappresentativi e noti a livello internazionale. Show cooking che da quest'anno potranno essere seguiti anche attraverso la diretta streaming e a cui parteciperanno anche gli alunni della Scuola Mede di San Gennaro. Novità di questa edizione, anche la gara tra quattro giovani chef della provincia, che si sfideranno in una ricetta dove l'elemento comune sarà l'utilizzo di quattro ingredienti scelti tra i prodotti presenti nel Desco. La manifestazione è giunta alla sua dodicesima edizione e l'esperienza accumulata in questi anni l'ha portata come esempio da seguire anche per altre manifestazioni simili a livello nazionale. Siamo stati anche contattati da un'altra manifestazione di Parma, autorevole città, quando si parla di alimentare e si spera che possa nascere una collaborazione. Una manifestazione questa nata da poco, intendo quella nel territorio parmense, nata da poco però esprime dei valori enormi in quanto riguarda come massa di visitatori e verranno qui a vedere la nostra per poter prendere indubbiamente degli spunti ma anche per contattare i nostri produttori per quanto riguarda le eccellenze e soprattutto sulle specialità. Quindi benvengano queste forme di collaborazione.